sono pronto per leggere le news di oggi vediamo che accade nel mondo un titolo da prima pagina il signor Grisaudo Chirubini è diventato il guru dell'amore e sta dando i migliori consigli d'amore mai dati nella storia dell'umanità cosa? pronto? pronto! sì! voglio segnalare una fake news subito! sì sì mi riferisco proprio a Chirubini quello lì fate in modo che non dia più consigli d'amore è certo! è certo! ma chi si crede di essere? eh sì sì sono il fumacupido ma vi sembra il caso di fare questi titoli sensazionalisti per attirare click e consensi? ma vi sembra un comportamento adeguato per un giornale? soprattutto quando sono falsità estreme da dove è uscito questo? ma chi si crede di essere? bene cancellate la notizia oppure meglio diffondete un'altra notizia in cui dite che ha dato un pessimo consiglio sì va bene attendo oh ma siete qui? ciao a tutti ragazzi oggi è pure martedì il che significa Fumacupido risolve però l'unica rubrica che colpi di si subdolo si subdola lascialo lascialo risolve tutti i vostri problemi trash amorosi in poche semplici mosse per partecipare al fumacupido è molto semplice nickname trash amoroso per mantenere l'onimato mail solo mail no direct no twitter no instagram no facebook no consulti privati no tutto tranne le mail con oggetto fumacupido in caso vogliate aggiornarmi l'oggetto sarà fumacupido e poi quando ne ho un po' facciamo un video di recap per vedere come sta andando la vita ma è ovvio che il fumacupido funzioni tranne cioè che funziona sempre e non certo per tal che rubini qualcosa è solo un emul e tra l'altro è già sparito da tutto il web perché l'ho inventato io va bene sono sempre io tutto ciò che funziona in amore nei consigli trash amorosi ovviamente appartiene al martedì e quindi iniziamo e vediamo chi è ah mail sono mail brevi concise attendete sono tante iniziamo con vasovario pinto vediamo ho un problema con dei ragazzi di seconda dalla mia scuola da quando ho iniziato la prima superiore ho visto questo ragazzo di seconda polentino che carino che mi ricordava troppo qualcuno ma non sapevo chi è una di quelle persone che ha la faccia simpatica che ti viene l'allegria solo a vederlo il punto è che ho già fatto figuracce con lui ma comunque è uno sempre silenzioso e timido e non saprei come avvicinarmi adesso entra in partita un altro betullo che mi ricordava troppo un personaggio di 13 ma tu troppi troppi ricordi infatti temevo pure che venisse bullizzato il punto è che abbiamo iniziato a fissarci senza mai parlarci ok è dalmeno ottobre che cerchiamo ognuno lo sguardo dell'altro e non so neanche perché a me interessa il suo amico polentino però vorrei avvicinarmi entrambi perché mi sembrano simpatici come faccio a far finire questo gioco di sguardi come faccio a farmi notare soprattutto da polentino aiutami tu beh carissima innanzitutto se non fai nessun passo è ovvio che né polentino né betullo ti si fanno avanti il fatto che betullo ti fissi non è certezza di interessamento magari dice ma perché questa mi fissa allora la fisso anch'io oppure magari all'amico trasgri proprio polentino che dice ti sfido a fissare una persona finché non si innervosisce e lui si che trasgri e subito ti fissa così ecco secondo me il miglior modo è fare il primo passo un primo passo senza pensare alle conseguenze a conseguenze nel senso aspetta alle conseguenze del tipo ci mettiamo insieme con polentino e betullo diventa il mio bff cioè non passare già a conclusioni vai e proteggi proteggi vai e agisci come se dovessi fare effettivamente amicizia con qualcuno come fare è molto semplice soprattutto se siete nella stessa scuola ci sarà qualche momento in cui che so l'intervallo li becchi in giro chiedi il classico accendino poi dici che l'altro dice non fumo scusa neanche io abbiamo cose in comune classico funziona sempre oppure scusate ragazzi ho finito gli spicci non avete dei centesimini da prestarmi per la macchinetta vi giuro che ve li rido domani così è pure l'occasione per vederli una seconda volta oppure semplicemente puoi dire puoi anche giocartela sul piano ironico con betullo ciao betullo ma non è che vuoi una mia foto perché mi fissi sempre ovviamente scherzo però comunque piacere sono vaso vario pinto e come tutti i vasiminghe so essere molto preziosa vabbè trash comunque no sinceramente zero pacchi solo swag vai fai se devi fare figuracce chissene vuol dire che non era un rapporto d'amicizia che poteva portare da qualche parte secondo me questo è molto semplice intanto mi sta venendo l'allergia al trash aiuto disagio iniziamo male perché ciao vabbè comunque fammi sapere e in bocca al lupo questo è il mio consiglio vai come se dovessi fare amicizia con qualsiasi altra persona non focalizzarti sul fatto che questi sono polentino e betullo sono esseri umani quindi chissà se poi reputi che non siano magari all'altezza delle aspettative allora in quel caso valuterai tu se smettere di provarci oppure se costruire qualcosa assieme a loro un'amicizia che magari può diventare amore con uno dei due o magari chissà è tutta questione di coraggio di non pensare al fare figuracce che è inutile e dannoso in bocca al lupo fammi sapere cale bocchi verdi ora tocca a te ti scrivo per chiuderti per chiuderti oddio aiuto dove no di darmi una mano a risolvere una situazione trash e tragica che va avanti dal 2015 ah sì in sintesi ad agosto quattro anni fa conosco questo ragazzo Derek Addominali con cui staura una profonda amicizia che successivamente è sfociata in qualcosa di più anche se non in una vera e propria relazione dato che abitiamo e studiamo su due costi opposti dell'Italia il problema è il seguente lui mi racconta ogni cosa senza problemi anche del fatto che in Erasmus ha avuto una relazione con un altro di cui crede di essersi innamorato e crede perché questo non sei tu giustamente fortunatamente il ragazzo è spagnolo e in più Derek cosa c'entra e in più Derek Addominali si è comportato un po' male con lui compromettendo il loro rapporto anche se continua a sostenere di stare ancora sotto per lo spagnolo nonostante ciò ha insistito perché io vado a trovarlo e io da bravo sottone ho consentito di andare giovedì prossimo come mi dovrei comportare con lui e magari questa mele tipo di tre mesi fa e sei già andato oddio che figura chissà cosa hai combinato solo da semplice amico oppure comunque andare alla ricerca di quell'intesa che c'è stata un tempo tra noi aiutami tu Matteo sei la mia unica speranza carissimo per te la risposta è uguale zero pacchi solo swag devi andare se vuoi andare se non vuoi andare fregatene ma dato che mi sembra che vuoi andare vai e fatti un filo desiderare tu non puoi stare a presso una persona che dice di essere sotto per un'altra ma che stiamo a di cioè quello che puoi fare tu è andare far vedere farti vedere sicuro di te un filo desiderabile un filo intraprendente ma allo stesso tempo non troppo raggiungibile in questo modo puoi capire quanto effettivamente puoi interessare a lui puoi capire la natura di quell'intesa puoi capire che cos'è successo sostanzialmente o se lui ha solo paura di impegnarsi queste persone che hanno paura di impegnarsi sono sempre un disagio totale ed è molto difficile gestirle però al di là di quello se anche dovesse essere un'amicizia che te frega se pensi che non le valga la pena a quel punto basta però devi andare anche tu come la tua amica di sopra con i piedi di piombo quindi senza grosse aspettative ma soprattutto senza pacchi in bocca al lupo fammi sapere Criciatina rossa 94 tocca a te ti scrivo perché ho un grosso problema amoroso ma siamo qui per questo nove mesi fa ho conosciuto Topino Grigio 97 mi sono innamorata di lui il problema che lui all'epoca era l'Erasmus non è lo stesso dello spagnolo spero di no nella mia città ma è tornato nel suo paese sette mesi fa quindi ho avuto l'opportunità di passare del tempo con lui per soli due mesi durante questo periodo i miei sentimenti sono cresciuti da un semplice colpo di fulmine a un innamoramento platonico vero e proprio non gli ho mai confessato i miei sentimenti perché lui aveva un flirt con una mia amica e perché di lì a poco sarebbe andato via quando è partito io ero devastata lui era davvero unico per me intelligente studiava filosofia suonava il piano recensiva film era una persona molto speciale tutti in quanti intorno a me sembravano pensare alla mia stessa maniera so che non ci si dovrebbe innamorare del tipo di un'amica ma queste cose succedono sono più cose etiche quelle però innamorarsi succede non puoi controllarlo prevederlo è anche giusto magari parlarne con l'amica e se l'amica dice ma si è giusto così vai e conquista vai e conquista se l'altra si arrabbia allora lì devi valutare un po' il piano delle cose però è sempre la sincerità la base di tutto ma questa cosa è andata oltre il mio controllo e infatti se non si fa così succedono le cagate sentiamo ad esempio per quanto riguarda ciò che Topino pensava di me non ho un'idea precisa so solo che probabilmente gli stavo molto simpatica perché rideva di gusto le mie battute e quando se ne è andato mi ha scritto un messaggio di addio molto carino ma che dolce in questi setti mesi l'ho pensato ogni giorno e ho rivissuto tutti i ricordi in loop nella mia testa non riesco a liberarmi dal suo fascino ho provato a scrivergli ma lui mi ha risposto quattro giorni dopo e non sembrava né voler alimentare la conversazione né voler sapere qualcosa di come me la passassi io secondo me è quello perché lui è entrato ormai nella routine che aveva nel suo paese e quindi magari non lo fa con cattiveria ma lo fa perché non sente più un forte legame con ciò che ha passato in Erasmus che puoi vedere come una cosa come un comportamento negativo lo è però è umano sotto certi versi l'importante è che tu non ci muori dietro questo è però vediamo io nel frattempo ho continuato con la mia vita studio la fuorisede in una città universitaria ho preso parte all'associazione di volontariato ho cominciato a seguire un corso di lingua di certo non passo le mie giornate nel letto a piangere brava il problema è che ho proprio perso completamente la testa per topino e mi sembra che niente di quello che faccio abbia un senso con la sua partenza non ho soltanto perso lui ma ho perso me stessa non è vero carissima non hai perso te stessa hai probabilmente probabilmente ti danni del fatto che non hai agito in tempo che non hai costruito qualcosa in tempo magari può essere anche che lui non ti parli o ti parli poco perché con l'altra è andata a maluccio o non l'ha chiusa benissimo e quindi ti associa ed è brutto dirlo però magari ti associa come amica l'altra tizia e quindi teme anche non lo so dei doppi giochi delle cose così quindi vediamo con lui intorno ero sempre allegra felice intraprendente mentre ora non c'è nulla che mi appassioni particolarmente allora non voglio essere quello te l'avevo detto però non è vero che hai perso te stessa perché è semplicemente un mix tra delusione e perdita dell'occasione e anche delusione del fatto di come si comporti lui ora però non è vero che non c'è nulla che ti appassioni particolarmente perché è una fase e arriverà il momento in cui capirai quanto quello che fai nella vita serva soprattutto per costruire te stessa e per circondarti di persone che effettivamente tengono a cuore quello che fai e che ti vogliono bene e che tu vuoi bene a loro assolutamente sostanzialmente non me ne frega più nulla di niente nessuna delle centinaia di persone che ho conosciuto è vagamente simile a lui e io mi sento persa secondo me perché hai conosciuto le persone sbagliate ogni sera prego di poterlo rivedere anche solo una volta e la mia unica speranza è che lui per nostalgia torni nella società in Erasmus non so più cosa fare per ritrovare me stessa perché ho fatto davvero di tutto per passare oltre aspetta un tuo prezioso consiglio un bacio un bacio anche a te carissima secondo me il problema è che tu ti sei fissata tanto su questa persona ti sei fissata anche sul fatto che non hai preso l'occasione per rivelargli i tuoi sentimenti e ora ti stai mangiando le mani quindi è quello che dico sempre è meglio una bastonata piuttosto che non far nulla e mangiarsi le mani perché ora stai vivendo questo momento di tedio noia delusione che poi fai ricadere sulle altre persone che incontri perché magari con le altre persone ti va male perché le associ a lui il problema che le persone sono tutte diverse e quindi anche se esci con uno che ha degli aspetti simili alla persona di cui ti sei presa bene non è quella persona quindi è ovvio che tu ne rimanga delusa ed è ovvio che tu finisca per lasciarlo perché sei uscita con lui solo perché ti ricordava quell'altro non perché ti interessava lui e allora il problema è quello come reagire secondo me bisogna dare tempo al tempo far aspettare il tempo non ossessionarsi con questo tizio non guardare i suoi social non scrivergli continuamente se lui ti scrive ok rispondi gli tranchi ma cioè non eliminarlo completamente se ti scrive ad esempio però cerca di lavorare sul fatto che non deve essere associato a una storia d'amore perché abbiamo capito che non c'è cosa da fare quindi fai del bene a te stessa aspetta non avere fretta nelle cose dai ampio sfogo a quelle cose che tu stai facendo quindi volontariato gli studi le cose che ti tengono occupata che ti tengono che alzano anche il tuo livello di creatività di messa in gioco e vedrai che senza la ricerca di una persona le persone verranno da te devi prima bastarti nel momento in cui ti basti e non è vero che ti sei persa è solo una fase vedrai che le persone ti cercheranno e tra quelle persone troverai anche un ragazzo con cui ti troverai bene te lo giuro te lo dico io la vita va così fidati in bocca al lupo fammi sapere ciao matteo il mio nickname è abbastanza trash amoroso perché il nickname è nickname trash amoroso che trasgri infatti lo dice anche tu che trasgri allora anyway veniamo al dunque sono innamorata follemente del mio professore che incipite dalla drama fallito alla moccia infatti e non sei la prima che scrive al fumacopido con questa trash insomma divago troppo ho 22 anni lui 34 ah quindi sei all'università ok ho già sostenuto l'esame con lui che è anche andato bene quindi non ci sono impicci legali ecco poi siete anche maggiorenni quindi è diverso il discorso rispetto al professore di liceo eccetera eccetera ho frequentato tutti i corsi tenuti da lui mi vede sempre in uni casualmente mi sorride e all'esame mi ha fatto anche complimenti e mi ha chiesto delle mie opinioni personali quindi boh non so che scusa trovare per parlare con lui anche solo per capire se l'ideaco di lui sia reale o no in attesa continuo a fare gridolini imbarazzati e sospiri angosciosi stile protagonista di After sprofondando nella vergogna ti stimo molto un abbraccio grazie anche te allora diciamo che ti sei fatta il film sostanzialmente ora io non posso dire se effettivamente il professore non provi un po' di attrazione per te ci sta cioè può esserci siamo esseri umani quindi magari lui ti trova attraente tu lo trovi attraente e insomma insomma c'è sempre la questione del un po' brivido proibito e tutto questo però magari può anche essere che il professore pur trovandoti una bella ragazza vede comunque questa divisione cioè tra studente e professore e che quindi ti abbia a cuore anche perché magari sa che sei una studentessa modello che hai le tue idee si è andata bene all'esame quindi lui si fida anche della tua opinione e quindi ti chiede anche delle proposte in merito magari l'hai colpito per qualche uscita che hai fatto qualche battuta qualcosa inerente alla sua materia che l'ha colpito e magari ti ha presa in simpatia quello che puoi fare che puoi fare secondo me è non farti film non farti travolgere l'esistenza da questa storia trasgri ma quello che puoi fare è perché no continuare in questo caso non ci vedo nulla di male rispetto ad altre storie analoghe che ho ricevuto continuare a parlargli quando non è l'occasione non cercarlo ossessivamente cioè se lo vedi in uno gli dici buongiorno prof come va ho letto un libro favoloso non lo so magari trasformare quel rapporto studente insegnante dato che avete già finito comunque i rapporti in quel senso in qualcosa tipo scambio culturale se vogliamo in modo che vi conosciate a livello un filino più complesso e poi chissà chissà non farti film però può nascere magari qualcosa più avanti ma al momento se ti piace la compagnia di questo professore parlare con lui al di là del trash della oh mio dio che fico perché no una chiacchierata in corridoio un caffè alla macchinette in cui dici no quel libro fighissimo poi non so che cosa insegni però nulla di male secondo me puoi procedere tranquillamente quindi in bocca al lupo fammi sapere ma ultima mail c'è tempo per un'altra mail chi arriva cioccolatina 00 parto col dire che ho un enorme problema con gli amici dai ragazzi con cui sto ahhh ok ho capito anch'io disagio a volte storie passate disagiate in quanto praticamente tutti i ragazzi che ho avuto erano sempre amici dei miei ex ah no questo è più grave il ragazzo con cui sto adesso però non era amico di nessuno e quindi pensavo che questa catena di trash fosse finita ma dal momento che ti sto scrivendo puoi immaginare che non è così infatti sto con il mio ragazzo da un anno e mezzo e arrivati a questo punto ho fatto molta amicizia con i suoi amici e li ho conosciuti meglio non mi sono mai piaciuti in quel senso di uno di loro particolari dicevo che era carino ma finiva lì ma cosa c'entra che è carino il problema è che in questi giorni siamo entrambi in biblioteca a studiare tutti i giorni quindi lo vedo sempre più spesso e ci parlo sempre di più mi piace tanto no ma io pensavo che ti stessero sulle palle i suoi amici no invece no ti sei grifata mannaggia a te che trash mi piace tanto il suo carattere mi fa le battutine scherzano è sempre ma che trash che provolona quindi puoi capire cosa mi sta succedendo io sono una che si prende molto facilmente le cotte per qualcuno e questo di certo non mi aiuto perché mi sono presa una bella cotta per questo ragazzo nonostante sia l'amico del fidanzato c'è da dire che io amo davvero il mio ragazzo ho un rapporto speciale con lui e quando siamo insieme l'altro non mi passa neanche per la testa però ci tengo tanto al nostro rapporto e mi sento veramente uno schifo all'idea di avere una cotta per qualcun altro aiutami tu devo assolutamente togliamolo la testa non voglio più riprendere non voglio riprendere a fidanzarmi con gli amici del mio ragazzo ma tengo tu comunque il trash perché è davvero brutto e si creano tantissimi casini ho già rovinato un sacco di amicizia e non ne posso più allora tornando a serie un attimo carissima secondo me non è una cotta mi spiego meglio cioè magari sì ma tu sei innamorata del tuo ragazzo tu stessa ne sei consapevole quindi devi capire che quando sei attratta da qualcuno non è detto che debba nascere qualcosa te lo spiego meglio quando ci mettiamo con qualcuno molto spesso noi scegliamo di stare con quella persona e non è una costrizione però implica una scelta e questo è vero perché non mi dire che non hai mai trovato particolarmente più attraente un tal cantante un tal attore nonostante sei innamorata del tuo ragazzo e mai nella vita te lo faresti o del tizio in metro o del del compagno di classe o del professore per tornare la mail prima è normale dire oh che figo che figa cioè farei troppe cose con quella persona anche mentre sei fidanzato o meno fidanzata però il confine tra divagare tra il divagare l'essere sbarazzini e l'effettivo fare è la consapevolezza di quello che si prova per un'altra persona ovviamente non sto parlando di casi estremi come coppie aperte poligamia e robe così sto parlando di coppie standard ok quando noi scegliamo di stare con una persona implichiamo una scelta l'avere pensieri trasgri è normale ma quando si è consapevoli di amare una persona e di stare con lei allora significa che c'è un peso diverso e quindi nel momento che invece vuoi fare effettivamente le cose secondo me è perché c'è qualcosa che non va con la persona con cui stai magari se c'è comunque l'amore ma magari è subentrata la noia magari manca il desiderio e quindi c'è un può nascere un tradimento di tipo diverso però nel tuo caso secondo me da un lato apprezzi il fatto che lui sia carino ti faccia complimenti quindi c'è un po' anche dai non negarlo c'è anche un po' quella cosa dell'autostima tipo un ragazzo che flirta con me che trovi un po' trasgri un po' biricchina però tu stessa sei consapevole di stare insieme al tuo ragazzo di amarlo e hai questo trash passato in cui ti mettevi con gli amici degli ex ok quindi sei un po' nei pacchi quindi zero pacchi solo swag cerca di capire cosa vuoi nella vita cosa vuoi chi vuoi e si sincera sempre con te stessa e con gli altri questo è il mio consiglio in bocca al lupo e fammi sapere ma ora basta che rubini è ormai un ricordo è stato cancellato come falso fumacupido e in effetti sono uscite storie trash da tutti i lobby di gente che è rimasta solo a causa dei suoi pessimi consigli perché solo il fumacupido risolve sempre e dato che oggi è martedì noi finiamo qui e quindi mi raccomando ricordatevi sempre di essere e sono Sì